Cos'è quella magica cosa che può raccontare un'istoria? Tra mille avventure un sapore di chiave di cui non ti stancherò mai. Profumo di carta stampata, sentire il luscio tra le dita, se ascolto, se guardo, se letgo, sarà un momento di felicità. Ma cos'è quella magica cosa? E il libro, lo sai, aprirò e non ti pentirà. E il libro si fa, e il libro si fa, solo lui questa gioia. E il libro, lo sai, aprirò e non ti pentirà. Il libro, lo sai, aprirò e non ti pentirà.